Siamo qui a Battipaglia per parlare di sistemi di lavaggio, perché Winterhalter si pone al mercato della ristorazione come un'azienda che è in grado di fornire non solo l'apparecchiatura fine a se stessa, quindi la lavastoviglie, ma tutto un sistema completo che comprende il trattamento acqua, il prodotto chimico e il servizio che viene dato anche al post vendita, quindi il service che viene dato al cliente finale. Questo ci garantisce dei risultati di lavaggio perfetti e anche di andare incontro alle esigenze dei nostri clienti. Winterhalter ci ha aiutato tantissimo perché ovviamente ottimizza i consumi, gli sprechi e ci permette una rapidità di servizio che sarebbe impossibile fare con i vecchi sistemi di lavaggio. L'attenzione magari alla ristorazione di qualità è sempre stata alta, tuttavia ovviamente bisogna salvaguardare il personale che è la prima risorsa dell'attività ristorativa, quindi è importante che il personale gli vengono dati gli strumenti per fare più velocemente il proprio lavoro. Quindi è normale che a fine servizio invece di avere un'ora per asciugare i bicchieri, i bicchieri sono già asciutti, stessa cosa per le posate, ottimizziamo un'ora di lavoro che il personale non deve fare, va a casa prima e più riposate, il giorno dopo sicuramente più performante. Gli ottimi risparmi energetici indubbiamente, risparmi sul detersivo, risparmi di mano d'opera, ovviamente i grandi investimenti portano un risultato a lungo termine, è normale che c'è anche un impegno importante iniziale ma viene ampiamente ricompensato da quelli che sono comunque risparmi sia energetici sia di mano d'opera e soprattutto la semplificazione del servizio di sala. Siamo qui ospiti del nostro cliente Le Radici per presentare Winter Alter che è un'azienda leader nel settore dei sistemi di lavaggio per la ristorazione, quindi oggi l'azienda ha presentato dei nuovi prodotti, dei nuovi sistemi di lavaggio quindi per andare incontro alle esigenze della clientela che oggi è sempre più esigente in quanto è importante e basilare avere un prodotto come il bicchiere, il piatto, le posate con un indice di pulizia estrema, quindi sono macchinari con nuove tecnologie che permettono un lavaggio rapido, un'asciugatura perfetta e quindi va incontro alle esigenze del cliente anche per quanto riguarda i costi, il risparmio dei costi in quanto è una macchina con un sistema automatico di lavaggio e asciugatura, quindi si evitano perdere di tempo, impiego di mano d'opera eccetera, anche per quanto riguarda l'utilizzo di detergenti è tutto un sistema che utilizza nuova tecnologia e che appunto va incontro alle esigenze del cliente, quindi oggi l'azienda presenta questo tipo di attività ma è solo l'inizio di una serie programmata di eventi che noi come PAMA andremo a strutturare nel corso delle prossime settimane. Con Winteralter noi siamo partner, anche noi stiamo facendo una grande struttura dove faremo degli impianti con Winteralter perché crediamo nella loro tecnologia, sono i numeri uno sul territorio e quindi siamo anche noi collaborando con loro per avere questa tecnologia in casa. Io sono il presidente del Team Costa del Cilendro che esiste ormai da dieci anni, stiamo avendo veramente dei grandi risultati, abbiamo 100 soci che contribuiscono nella crescita della nostra associazione, ci crediamo sempre di più e continuiamo a presentare anche a loro queste partnership che abbiamo con queste grandi aziende, non solo perché deve essere un business per l'azienda ma noi ci crediamo perché scegliamo solo aziende tipo Razio, Winteralter, solo aziende top che veramente lavorano e creano nuove tecnologie che mettono a disposizione di noi in cucina, noi chef e soprattutto imprenditori perché comunque usufruiscono di vantaggi in forma di risparmio energetico che oggi penso che è il tema principale che si discute un po' in tutte le case. Sì, noi abbiamo dei progetti che stiamo portando avanti con la mia famiglia e lo chef Matteo San Giovanni, noi veniamo dal mondo agricolo e nello stesso tempo abbiamo la passione per l'accoglienza, per l'ospitalità e per il cibo. Abbiamo cercato di mettere insieme questi due connubi tra noi e lo chef e quindi adesso abbiamo il ristorante Le Radici che è già operativo da tre anni e il 7 dicembre inauguriamo un nuovo ristorante che si chiamerà sempre Le Radici Esperi è un percorso gastronomico ancora un po' più di attenzione nel preparare i piatti.